La ASL Lanciano Vastocchieti mira a recuperare risorse per 20 milioni di euro di qui fino alla fine dell'anno. L'azienda sanitaria locale Tiatina, insomma, vuole fare la sua parte per dare copertura al disavanzo sanitario regionale. Niente taglia personale e servizi, ma conteniamo la spesa, ha spiegato il direttore generale della ASL Lanciano Vastocchieti, Thomas Schell. Diversi gli aspetti che concorreranno a comporre la strategia che la ASL Tiatina ha in mente. Anzitutto un aumento delle entrate, che si lega alle erogazioni del fondo sanitario, ma soprattutto al recupero della mobilità passiva e dei ticket per le prestazioni, soprattutto quelle di pronto soccorso, che hanno un controvalore da più di un milione di euro. E poi c'è il tema della revisione della spesa. La ASL Lanciano Vastocchieti vorrebbe, in prima battuta, ridurre al minimo quegli esami diagnostici che si rivelano inutili. L'obiettivo sarebbe risparmiare circa un milione di euro. Ben 10 milioni di euro, invece, dovrebbero essere recuperati tramite un monitoraggio puntuale della spesa farmaceutica. E poi 5 milioni di euro di recupero deriverebbero dalla riduzione della spesa per i dispositivi. L'ultimo dato parla di costi per l'ASL Lanciano Vastocchieti di quasi 55 milioni di euro, a fronte dei quasi 36 che sono assegnati all'ASL. Infine, si guarderà anche alla trasformazione digitale di alcuni processi, ad esempio la logistica e la gestione dei trasporti. La parola d'ordine sarà ottimizzazione.